Inizia il girone di ritorno e cercheremo di mettere in difficoltà l'Udinese che è la prima avversaria di queste 19 gare che dobbiamo affrontare davvero con un atteggiamento spavaldo, battagliero e cercare di ottenere punti con tutti. Queste due gare di Coppa Italia ci hanno dato una grossa mano quindi la condizione sta crescendo per tutti, Verde è riuscito anche a fare due gol, Saponara uguale anche se bisogna gestirlo in maniera diversa perché veniva da tanto tempo di inattività e domani è a disposizione. Galabinov anche lui sta crescendo, è stato fuori tantissimo, siamo convinti che affrontando in un determinato modo le gare possiamo mettere in difficoltà chiunque, chiaro che non dobbiamo permetterci di presentarci in campo come il primo tempo di Napoli, poi c'è stata una grande reazione da parte dei ragazzi e quella mi lascia davvero molto fiducioso per la partita di domani. Udinese è una squadra come quelle che sono in quella zona di classifica che da un momento all'altro può tirarsi fuori perché ha a disposizione giocatori di grande livello, è una squadra che è molto organizzata, è una squadra che se gli permettiamo di mettere in mostra tutte le qualità è chiaro che ci può mettere in grossa difficoltà. Lo Spezia ha fatto un giorno d'andata dal mio punto di vista molto buono, si è guadagnato tutti i punti che è in classifica, ha un'organizzazione di gioco che mi piace molto ed è molto coraggiosa. Credo che però guardando a noi i presupposti della partita di domani siano molto diversi, è uno scontro diretto, più diretto di così gli stessi punti in classifica. L'impressione durante questa settimana è che la nostra squadra sia consapevole dell'importanza di una partita di questo tipo.